Firmata nella sede della regione siciliana Catania, ex palazzo ESA, la convenzione per la realizzazione della metroferrovia di Ragusa, a sottoscrivere l'intesa la regione, il comune di Ragusa e rete ferroviaria italiana. Il progetto, già finanziato dal Fondo di sviluppo e coesione con 18 milioni di euro, punta alla riqualificazione della periferia storica della città, attraverso il collegamento con la zona moderna. Presenti il presidente della regione nell'Omusumeci, l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì e il direttore territoriale di RFI Michele Laganà. Un'infrastruttura lunga circa 10 chilometri che comprenderà tra le altre cose la stazione di Cisternazzi e le fermate di Colaianni e Carmine, prima e Ragusa centrale, Ragusa Ibla dopo. Previste inoltre le realizzazioni dell'ascensore inclinato di San Paolo e quello panoramico di Ponte Giovanni XXIII, dell'ascensore in prossimità del Convento di Gesù per raggiungere piazza San Giorgio di Ibla, che serviranno per recuperare gran parte dei dislivelli che oggi penalizzano la mobilità interna al centro storico, poi ancora dell'ascensore inclinato del Carmine e della funivia che connetterà la stazione di Ibla con Ibla, oltre a ripristino dei percorsi pedonali di connessione con San Paolo e con la cava di Santa Domenica, che permetteranno alla ferrovia urbana con cadenza di 30-40 minuti di integrarsi con la città storica e insieme di connettersi con l'esistente stazione di Ragusa centrale, con la nuova fermata Colayan, integrabile con la stazione degli autobus extraurbani e con il nuovo grande polo spedariello di Ragusa, attraverso la nuova fermata Cisternazzi. È un progetto che darà una forte spinta alla mobilità del capoluogo Ibleo. Dopo Messina, Ragusa sarà la seconda città che avrà un sistema metro ferroviario, ha spiegato l'assessore Falcone. Abbiamo un cronoprogramma serrato che ci consentirà di avere lo studio di fattibilità entro 7-9 mesi. È un progetto che finanziamo col Fondo di Sviluppo e Coesione, è un progetto che ha una storia antica ma ormai ha subito, per fortuna, una accelerazione da parte del Governo regionale, dell'assessore alle infrastrutture e ai trasporti, da rete ferrovie italiane e quindi ragionevolmente entro 4 anni potremo darci appuntamento a Ragusa per inaugurare un'opera che sarà di straordinario interesse non solo per il traffico locale ma per i collegamenti fra la città Iblea e le reti principali. Penso alla rete Siracusa-Catania-Messina ma penso anche alle reti dell'entroterra. Noi abbiamo bisogno invece di dirottare una parte del traffico della Sicilia orientale verso lo scala aeroportuale Comisano. Come? Beh, da un lato stiamo puntando fortemente all'ottenere l'ampliamento della Ragusana, dall'altro ne escludiamo l'ipotesi del potenziamento di una tratta ferroviaria che di fatto esiste ma che aspetta di essere potenziata con una serie di interventi che per ora sono soltanto al baglio della regione e della rete ferrovie italiana.